Sto partecipando ad un remix contest di Alan Walker e Emanbeck. Ho creato il mio remix e l'ho caricato su YouTube come richiesto dal sito ufficiale del remix contest. Se lo volete ascoltare ve lo linkerò qui sopra e in descrizione. Il video non è stato guardato da molte persone finora perché c'è stato un problemino. Infatti YouTube me lo ha bloccato e quindi il video è stato bloccato per i primi giorni. Ciò significa che quando YouTube riconosce che c'è una traccia il cui copyright appartiene ad altre persone te lo blocca. Oppure in altri casi ti può semplicemente dire che non puoi monetizzare quel video ma puoi comunque pubblicarlo. Il mio video era totalmente bloccato cioè significa che in tutti i paesi del mondo non poteva essere visto. E qui veniamo ad un'importante precisazione che è la domanda di questo video. Infatti chi detiene i diritti di un remix? Andiamo a scoprirlo subito. Vi faccio vedere esattamente cosa c'è scritto nel contratto cioè nei termini e nelle condizioni di questo remix contest. Chiaramente ogni remix contest ha i suoi termini ma comunque sono tutti molto simili. Non mi stupirei addirittura se un remix contest copiasse direttamente, copia e incolla la pagina dei termini di un altro remix contest. Ma andiamo a vederli subito. Allora siamo qui nella pagina dei termini e delle condizioni, bella lunga ma vi farò vedere solamente le parti più importanti, le parti salienti. Ci sono 14 punti da leggere. Partiamo subito col primo. Fate bene attenzione perché arriveremo ad un certo punto in cui ci sarà una cosa veramente strana in cui voglio che prestiate la vostra attenzione. Ma andiamo avanti. Queste sono le informazioni chiaramente del partecipante, della traccia, della compagnia. Attenzione perché la domanda diventa un po' più complicata nel momento in cui scopriamo che non ci sono due attori che si contendono i diritti del remix contest. E cioè non sono chi crea il remix e chi ha fatto la traccia originale. Ma entra in gioco la casa discografica. Infatti è la casa discografica che detiene i diritti della traccia originale. Ma chi detiene i diritti della traccia remix? Andiamo a vedere. Nel contratto il termine compagnia sta ad indicare la casa discografica. Mentre il partecipante sta ad indicare chi ha fatto il remix contest. Vediamo un po' di cose non molto importanti. Cioè devi avere 18 anni chiaramente, non devi essere un impiegato della compagnia, cioè non devi lavorare alla casa discografica. E devi avere un profilo YouTube, SoundCloud e un profilo email. Andiamo avanti. Qua sono specificati i premi e come viene scelto il vincitore. Ci saranno tre vincitori che riceveranno diversi premi. Ma adesso andiamo a vedere la cosa importante, la cosa strana che vi dicevo poco fa. Perché anche se tu vincessi il remix contest, e qua è indicato che a partire dal 24 luglio 2021, sia Alan Walker che la casa discografica selezioneranno i vincitori, che sono tre. Ma se tu vincessi, e questo è scritto qua, il remix contest, dovrai comunque andare in altri... dovrai essere contattato direttamente dalla compagnia, cioè dalla casa discografica, e fare un altro contratto. Cioè questo contratto è solamente quello per partecipare al remix contest, ma non ti garantisce che la tua traccia, anche se tu arrivassi primo, verrà rilasciata dalla casa discografica. Infatti dovrete fare un altro contratto, e guardate qui, il vincitore del primo posto dovrà entrare in un accordo, in un contratto con la compagnia, in separati termini, e riceverà un pagamento univoco. Cosa significa questo? Questa è una cosa molto importante, ed infatti per fortuna l'hanno scritta in grassetto, ma comunque ci sono... il 90% delle persone non legge questi termini, quindi non lo saprà mai. Ma questa è una cosa da sapere. Significa che se tu vincessi il remix contest, loro potrebbero rilasciare la tua traccia, chiaramente, che è quello che vogliamo, e ti pagano una volta. Cioè in pratica ti danno dei soldi per dargli la tua traccia. Questo significa che tu non riceverai i pagamenti relativi a quanto la tua traccia farà, quanti streams farà su Spotify, quante visualizzazioni farà su YouTube, quante persone la compreranno, iTunes, Apple Music, tutto quello che c'è da raccogliere, come fanno solitamente le case discografiche. Le case discografiche funzionano, che raccolgono tutte le visualizzazioni della traccia e poi ti pagano a seconda di quanto la traccia ha fatto successo. Ma loro ti stanno esplicitamente dicendo che verrai pagato una sola volta, all'inizio. Quindi loro ti danno i tuoi, facciamo caso, tra i 1000 e i 5000 euro, che comunque non sono pochi, ma sono molti di meno rispetto a quelli che la tua traccia può fare, se farà successo, e stiamo parlando di persone come Alan Walker, quindi immagino che la casa discografica pubblicizzerà il tuo remix e lo farà diventare popolare. Nel caso in cui il tuo remix diventi proprio ultra popolare, tu guadagni molto di più di quei soldi che loro ti danno una volta, e soprattutto, secondo me è più bello ricevere i soldi ogni mese, rendendoti anche conto di quanto la tua traccia viene ascoltata e viene piaciuta dal pubblico. Invece loro ti pagano una volta e basta, e possono fare della traccia tutto quello che vogliono. Andiamo avanti. Ecco, vediamo come vengono selezionati i vincitori. Verranno selezionati chiaramente da Alan Walker e dalla casa discografica, considerando questi parametri, impegno, creatività e innovazione, quindi originalità. Ma attenzione perché i vincitori verranno contattati dalla casa discografica per email, ma dovranno rispondere all'email entro 48 ore. Quindi se tu o non ricevi l'email, o magari sbagliano l'ora a inviartela, oppure sei in vacanza, non lo so, rispondi dopo 48 ore, perdi il tuo diritto di vincere il remix contest. Loro chiaramente si riservano il diritto di modificare le procedure di notifica, quindi qua c'è scritto che ti invieranno un'email, ma volendo loro possono modificarlo. Possono modificare sia la durata del remix contest, o addirittura si riservano il diritto di non pagare i premi, nel caso in cui ci sia un insufficiente numero di entry elegibili. Cosa significa? Che se ci sono ad esempio 10.000 persone che partecipano, ma loro non piace nessuna traccia, quindi non riescono ad assegnare i primi tre posti, i premi non verranno assegnati a nessuno. Il premio verrà dato entro 21 giorni, ok. Adesso arriviamo alla sezione diritti, eh? Ci stiamo per arrivare, ma vediamo prima un'altra cosa, cioè tasse e costi. Ogni tassa e ogni altro costo che riguardi il contest sono coperti dal partecipante. Quindi significa, questi costi immagino che comunque saranno pochi, però verranno coperti dal partecipante. Vediamo un po' e rispondiamo alla domanda di chi detiene i diritti di un remix. Il partecipante prende conoscenza che la traccia, e con traccia si intende proprio l'originale di Alan Walker, appartiene alla casa discografica. E questo è giusto. E la casa discografica ti dà il permesso di includere gli loro stems, cioè significa il vocal, la chitarra, tutte le varie parti, la batteria, nella tua entry, che sarebbe il remix. Il partecipante esclusivamente dà licenza alla compagnia del works, e questo è importante. Con works si intende il remix, significa in tutto il mondo, la compagnia avrà l'esclusivo diritto di usare a suo piacimento il lavoro, cioè significa il remix, senza alcun pagamento al partecipante. Il partecipante, inoltre, dà irrevocabilmente, quindi significa che non puoi cambiare idea, non puoi a un certo punto inviare una lettera alla casa discografica dicendo guardate, magari fra dieci anni non voglio più che voi usate il mio remix, e questo si può fare con le tracce originali. Quando tu fai una traccia e viene pubblicata da una casa discografica, puoi, hai il diritto di dirgli, guardate da oggi, ovviamente con un periodo di preavviso, da oggi non potete usare più la mia traccia, quindi non potete più guadagnarci sopra, ovviamente io rinuncio a tutti i pagamenti che voi mi darete, eccetera, eccetera. Ma qui è irrevocabile. Irrevocabilmente gli dai a consenti a tutto lo sfruttamento della traccia e ad autorizzi anche altri a sfruttare il lavoro, in tutto il mondo e in tutti i media. Il partecipante ovviamente garantisce che è il solo copyright owner, questo significa non che voi detenete il, cioè non che noi deteniamo il diritto del remix, ma nel senso che abbiamo fatto questo remix noi, quindi affermiamo che siamo stati noi a crearlo, oppure se il remix è stato fatto unitamente con altre persone, che anche hai ottenuto il consenso scritto dell'altra persona per sottomettere il tuo remix al contest. Scrolliamo verso la fine, una cosa importante da dire è che tutti questi termini e condizioni sono comunque sottoposti alla legge dell'Inghilterra e del Galles, quindi significa che se noi non conosciamo le leggi dell'Inghilterra e del Galles riguardanti la musica non possiamo saperlo, ma comunque si tratta di un caso veramente raro, non devi per forza andarti a leggere il codice inglese, però comunque se ci fossero problemi si andrebbe a guardare la legge inglese. Questo significa che noi siamo italiani, diamo per scontato alcune leggi che in Italia ci sono, ma non sappiamo se poi in Inghilterra funziona nello stesso modo. E qui arriviamo ad una conclusione. Adesso vi parlerò più in generale, perché qua abbiamo visto un caso specifico, che comunque è molto simile a molti casi, perché siamo arrivati alla conclusione, cioè il remix non appartiene a chi remixa la traccia prima di tutto, devi partecipare ad un remix contest, quindi significa che devi accettare dei termini e delle condizioni, quindi significa che non puoi remixare qualsiasi traccia senza il permesso dell'autore originale, cioè io non posso prendere una traccia che mi piace remixarla così di testa mia. In quel caso avrei zero diritti, anzi il mio video verrebbe addirittura bloccato. Non solo il mio video, ma tutta la traccia verrebbe proprio bloccata e a quel punto dovrei vedermela con la legge. E voi mi chiederete come mai ci sono tanti remix unofficial, quindi non ufficiali, di tracce, e quello è perché semplicemente l'autore della traccia non ha nessuna intenzione di farvi causa. Quindi è una pratica molto diffusa, si può remixare una traccia e sperare che non ci siano ripercussioni, quello sì. Due, quindi abbiamo detto, uno devi partecipare ad un remix contest, due, non hai tutti i diritti, i tuoi diritti vengono comunque divisi, così come capita con le tracce originali, tra la casa discografica, tra l'autore e tra quello che ha remixato la traccia. Solitamente funziona così, nel senso che la casa discografica raccoglie tutti i proventi della traccia. L'autore originale riceve una parte, quindi significa che l'autore originale guadagnerà sul vostro remix, senza averlo fatto, cioè lui guadagnerà sia sulla sua traccia originale che su tutti i remix che verranno rilasciati, e voi guadagnerete una piccola parte, ho visto anche parti piccole, il 5% nella mia esperienza, riceverete questa piccola parte dei proventi. In questo specifico caso, invece, loro vi pagheranno semplicemente all'inizio una cifra ben stabilita, e basta, e poi se ne lavano le mani praticamente. Non avrete più niente a che fare con loro, voi gli darete la vostra traccia, e ciao! Quindi, spero di aver risposto alla vostra domanda, fatemi altre domande qui nei commenti, fatemi sapere. Anzi, vi dico pure che c'è un video qua, lo metterò qui sopra in descrizione, riguardo a Imanback, perché ho fatto un video tutorial con il Serum riguardo a come creare il suo basso, quindi il basso del suo remix che ha fatto di Roses. Tra l'altro c'è una storia anche con questo remix molto curiosa, perché inizialmente lui aveva fatto questo remix unofficial, quindi non ufficialmente, e poi l'artista originale gliel'aveva praticamente rubato, nel senso che l'aveva pubblicato sul suo canale senza dirgli nulla, ma poi comunque sono scesi ad accordi, e questo remix vi assicuro che sta guadagnando molto di più della cifra indicativa che ho detto prima nel video, e che mi aspetto venga pagata al vincitore del remix contest. Detto questo, ricordatevi sempre di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!